Salve a tutti! Continuiamo oggi lo studio sulla progettazione degli induttori di potenza con l'inizio della seconda fase, ovvero la realizzazione di un modello sul software LTSpice. Prima però voglio fare una precisazione su alcune formule che sono state viste nel precedente video. Infatti, avendo definito come Imax la corrente massima di picco che scorre nell'induttore e come ΔI il ripod di corrente a cui è soggetto l'induttore, per calcolarci il valore di corrente AC e corrente DC che scorre nell'induttore avevamo utilizzato queste formule qui, in cui purtroppo ci sono due errori. Il primo è che il valore di corrente AC deve essere ulteriormente diviso per una quantità pari a 2, mentre il secondo è sulla corrente DC. Infatti, oltre a riportare in questa formula anche il coefficiente di divisione 2, bisogna tenere in considerazione che questa è una corrente RMS, quindi bisogna effettuare una radice quadrata di queste due somme al quadrato. Molto bene, quindi corretti questi errori, proseguiamo con il modello su LTSpice. Come detto all'inizio dello studio, perché vogliamo realizzare un modello su LTSpice? Perché vogliamo eliminare gli svantaggi dati dal modello analitico, ovvero nella precisione vogliamo ottenere delle equazioni delle perdite dipendenti dal tempo e inoltre vogliamo riuscire a simulare il passaggio di una corrente generica, quindi di qualsivoglia forma, senza essere vingolati a dover utilizzare soltanto correnti di forma sinusoidale. Nella prima fase avevamo analizzato e studiato le equazioni relative a questi tre fattori di perdita, quindi relative all'effetto pelle, alla prossimità e alla isteresi. E come avevamo visto, queste equazioni ottenute erano indipendenti dal tempo, quindi valevano soltanto per forme d'onda di tipo sinusoidale. Ora, quello che dobbiamo fare è, partendo dalla conoscenza di queste equazioni, riuscire ad ottenere, trasformandole opportunamente, altre equazioni che sono dipendenti dal tempo. E in che modo riusciremo a farlo? Per quanto riguarda le equazioni dell'effetto pelle e dell'effetto di prossimità, beh, in questo caso non andremo a ricavare delle equazioni dipendenti dal tempo, ma attraverso uno stratagemma, ovvero andando a dimensionare opportunamente una rete di tipo LR, riusciremo a descrivere queste perdite in funzione del tempo. Mentre, per quanto riguarda l'equazione relativa alle perdite per isteresi, questa verrà totalmente riscritta nell'equazione definita GSE, ovvero Generalized Statement Equation. Una volta trasformate tutte e tre le equazioni nel dominio del tempo, avremo così concluso il nostro modello su LTSpice. E quindi, infine, andremo a effettuare un dimensionamento di prova per verificare la funzionalità del modello. Molto bene, quindi questo è quello che ci aspetta nei prossimi video e con il video di oggi iniziamo subito ad analizzare il fenomeno dell'effetto pelle, come si trasforma e come si dimensiona correttamente la rete LR. Negli scorsi video, quando abbiamo analizzato il fenomeno dell'effetto pelle, avevamo visto questo grafico qui, ovvero dove in ordinate è riportato il rapporto fra resistenza AC e resistenza DC, mentre in ascisse veniva riportato il valore delle frequenze. E dove avevamo visto che superato un certo valore di frequenza, definito FT, ovvero frequenza di taglio, che corrisponde a quel valore di frequenza dove la profondità di pelle e guaglia il raggio del conduttore, la resistenza AC iniziava ad aumentare. Ora noi che cos'è che vorremmo? Vorremmo che ci fosse un modo per dimensionare un circuito elettrico che quando viene simulato su SPICE, a seconda del valore di frequenza a cui lavora questo circuito, si ha un comportamento di valore resistivo come quello riportato su questo grafico. E un circuito che risulta essere un ottimo candidato per poter ottenere questo comportamento è appunto una rete LR che viene riportata già qui sul foglio. Quindi prima della rete LR abbiamo una resistenza che viene chiamata DC in quanto rappresenta il valore della resistenza continua che è fissa e noto. E successivamente abbiamo questa maglia composta da un elemento induttivo e un elemento resistivo messi in parallelo. E intuitivamente com'è che funziona questo circuito? Quando siamo in bassa frequenza o a limite in corrente continua abbiamo che la L è come se non esistesse. Quindi qui c'è un perfetto cortocircuito e quindi la resistenza dell'avvolgimento sarà pari solo alla sua resistenza DC. mentre quando siamo a frequenza di RDC. Mentre quando siamo a frequenze molto alte, supponiamo una frequenza infinita, abbiamo che la L si comporta come un circuito aperto. Quindi la resistenza dell'avvolgimento sarà pari alla somma di RDC più la somma di R. Adesso però quello che noi vorremmo è dimensionare questo circuito in un ristretto range di frequenze di nostro interesse. Quindi ritornando al grafico sopra andiamo a prendere come frequenze di riferimento la frequenza di taglio e la frequenza 10 volte superiore a quella di taglio. E come resistenze corrispondenti andiamo a prendere il valore di RAC relativo alla frequenza 10 volte superiore. Mentre come valore di FT andremo a prendere il 10% della resistenza AC. Adesso che cos'è che ci facciamo con questi valori? Andiamo a creare un sistema di equazioni dove quando la frequenza è uguale alla frequenza di taglio, la parte reale della rete LR deve essere uguale a 0,1 la resistenza AC. Mentre quando la frequenza è uguale a 10 volte la frequenza di taglio, la parte reale della rete LR deve essere uguale proprio alla resistenza AC. Volendo ricavare l'equazione di impedenza della rete LR, otteniamo le seguenti equazioni. Quindi effettuando il parallelo di L ed R, dopo alcuni passaggi matematici, ricaviamo questa equazione che descrive l'impedenza della rete in funzione della frequenza. E dove possiamo chiaramente distinguere la parte reale da quella immaginaria. E quindi adesso che cos'è che facciamo? Andiamo a fare quello che abbiamo detto sopra. Quindi imponiamo questa parte, che è quella reale, uguale al 10% di RAC quando ω è uguale alla frequenza di taglio, e quindi chiamata in questo caso con ω1, mentre quando la frequenza è pari a 10 volte la frequenza di taglio, quindi indicata con ω2, questa parte reale deve essere uguale proprio alla resistenza AC. Dopo alcuni passaggi matematici, riusciamo finalmente a ricavare in forma semplificata i valori di R e di L del circuito. Ora però, notando che il valore della seconda frequenza è 10 volte più grande della prima, quindi quando si va ad effettuare il quadrato, risulterà che ω2 al quadrato è 100 volte più grande di ω1 al quadrato, si può effettuare una seconda semplificazione. Quindi il valore di R sarà proprio uguale ad RAC, mentre il valore di L sarà uguale al risultato di questa radice quadrata. E con questo siamo quindi riusciti ad ottenere i valori della rete LR. E quindi, inserendo questo circuito in LTSpice, in funzione della frequenza di lavoro, andrà a simulare il valore di resistenza corrispondente proprio a quello dell'effetto pelle. E quindi saremo in grado di ricavare le perdite dovute a questo fenomeno. Molto bene! Per adesso quindi è tutto. Alla prossima!